Buon vento a WOW, mi presento Fabio Porta, amministratore delegato di Acquaviva Water Technologies. È importante sottolineare che siamo già presenti sul mercato nazionale con due importanti progetti, uno Federazione Italiana Gioco Calcio, uno nel mondo delle scuole e abbiamo aderito al progetto WOW, quindi saliamo a bordo, quindi buon vento a WOW.